Io abitavo vicino al Duomo, l'aiuto che ho fatto ai partigiani è partito da lì, ho lavorato con il Monsignor Vossati che era il capo del Duomo di Brescia, io la sera andavo a Rosario per giocare, allora mi chiamava e mi diceva se volevo, e difatti andavo ad avvisare quelli che erano in pericolo e che dovevano scappare. Io lavoravo in due uffici, in un ufficio col mio capo che era fascista, però posso dire solo bene, però alla fine lui si era accorto che io non la pensavo come lui, si era accorto e mi diceva Luisina attenta e io avanti in perterrita. Quando finita la guerra lui l'hanno epurato perché era fascista, io sono andata in tribunale e l'ho difeso, ho detto che lui era una brava persona che sapeva di me, non ha mai, e difatti non l'hanno. Sono andata in tribunale, era giusto perché lui aveva capito. E uscivo la sera alle sei dall'ufficio perché lavorava all'OM e correvo ad avvisare queste persone in pericolo, quindi non tutte erano uguali quando chi credeva, chi non credeva, chi voleva sapere, chi si arrabbiava, chi mi ringraziava, non ero sempre uguale. Una in particolare era un professore e aveva una villetta lontana da casa mia, giù in periferia, era una villetta e abbiamo suonato, non c'era il nome, perché non c'erano i nomi sui campanelli a queste persone per il pericolo. Abbiamo suonato un campanello perché poi era una villetta, era solo loro, c'era forse anche un'altra, forse. ci ha aperto la porta, ci siamo saliti e era nello studio molto grande, seduto in una scrivania molto grande con una piccola lampada verde, me lo ricordo ancora, magrissimo, alza la lampada, infatti eravamo in due e una mia amica ci ha buttato. Allora abbiamo fatto il nostro messaggio e quello ha detto, ma chi siete voi per venire a dirmi una cosa del genere, cosa sapete voi di me? Chi vi manda? Allora le solite frasi, non possiamo dirvi chi siamo se lei saprà come agisce, quindi sa se questa cosa a voi interessare, eccetera, eccetera, solite frasi. E lui ha messo giù la lampada, e noi siamo andate, la moglie ci ha accompagnato e non ci ha ascoltato. Dopo due giorni era in carcere perché non è andato via e poi è morto di fame in carcere. In carcere poi ha parlato perché lo picchiavano, ha parlato e ha tradito quello che poi dopo è diventato mio marito, ero fidanzata con uno, un capo partigiano e lui l'ha tradito e difatti è finito in carcere anche questo capo partigiano. Quando gli ultimi giorni di guerra hanno aperto le carceri, i secondi, dove si chiamano? E allora sono scappati tutti e tra questi anche lui. È lì dove ho avuto paura. Poi lui, siccome io abitavo in via Veronica Gamber vicino alle carceri, insomma non proprio vicino, ma in centro storico, ha raggiunto il centro storico, mi è venuto a casa e ha suonato e io dovevo accompagnarlo di notte col coprifuoco, con la ronda che girava. Abbiamo messo una notte, siamo andati a casa sua, abbiamo preso armi e tutto, tutta notte in piedi. Avevo un giardino, abbiamo scavato dove l'avevamo nascosta prima. Abbiamo raggiunto la sede dove c'era il comando, il comando partigiano. L'abbiamo raggiunto e è lì che abbiamo passato tutto quel pelotone di fascisti e lui mi ha detto tu fermati, io vado da solo e neanche persone, vengo anch'io. Abbiamo escogitato un metro, diciamo io faccio la scema e tu ridi, soffiato il naso perché era tutto con la barba, si vedeva che era un evaso. Tu ridi e io rido anch'io come due scemi, così eravamo con due biciclette e li abbiamo passati tutti con una fifa e siamo andati a Montpiano dove c'era questo comando. Poi avrei dovuto andare in montagna tutta la notte, invece se Dio vuole è arrivata una staffetta e così non ci sono andata.